Sonny Colbrelli. Ciao Sonny! Ciao a tutti quanti. Ciao Vincenzo. Guarda che ti abbiamo portato. Ma è colto impreparato, ti dico la verità. Mi sono rimasto un po' così. Però dai, sono contento di aver corso con te Vincenzo. Hai dato tantissimo al ciclismo e io sono stato onorato di stare in squadra con te. E adesso è difficile trovare un altro Vincenzo Libri perché quello che hai fatto te è chi vuole essere il tuo palmarès. È un palmarès davvero lungo e che dire, complimenti ancora per tutti. Poi ci sarà modo di vederci dal vivo. Grazie Sonny. Cosa devo dire? Sonny, abbiamo passato veramente dei grandissimi momenti. Ora con lui mi sono sentito spesso però l'ho visto anche abbastanza tranquillo, felice e anche per Sonny gli auguro il meglio perché ora non so anche lui come vorrà intraprendere dopo quello che tutti sanno cosa gli è successo quindi è nient'altro. Ciao Vincenzo.